Su TikTok non si capisce niente, scorri e trovi di tutto, un po' come la vita. Se posso dire due parole su questo DDLZAN, dobbiamo capire che senza rispetto non andiamo da nessuna parte, se no, altro che Italia riparte. Non possiamo parlare di cose serie e solo quando si vedono due tette e due culi stiamo attenti. Vanno considerati tutti per come siamo. Forse proteggere anche gli animali e il mondo in cui viviamo.